era il mio sogno dell'infanzia cioè facevo le scuole qua ho giocato a pallone su questo campo e pensavo un giorno ce la farò a fare un concerto a cantare che avevo la versione della musica ci sono riuscito 13 agosto ci vediamo tutti qua alla certosa di Capri che nemmeno così a neve coni vi voglio tutti non mi ha scelto per il mio collo